Buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di elezioni amministrative perché domani dalle 7 alle 23 urne aperte si vota ovunque per i 5 quesiti referendari in abruzzo sono invece 49 i comuni chiamati ad eleggere il sindaco e a rinnovare i consigli comunali fare i puntati ovviamente sull'aquila in altri 4 comuni c'è possibilità di ballottaggio san salvo ortona spoltore e martinsicuro facciamo il punto nel servizio di andrea costantini domenica al voto in tutto il paese per i 5 quesiti referendari e poi in alcuni comuni per le amministrative urne aperte solo domani dalle 7 alle 23 i referendum sono di natura abrogativa e quindi votando sì si opta per il cambiamento della condizione attuale con il no si sceglie di mantenere la normativa vigente per la fattispecie toccata dal quesito chi andrà al voto riceve dunque cinque schede la rossa riguarda la cancellazione o meno della legge severino che sospende o rende incandidabili soggetti condannati scheda arancione sulla limitazione delle misure cautelari in particolare con riferimento alla reiterazione del reato terzo quesito con scheda gialla e riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pm col sì i magistrati dovranno scegliere a inizio del percorso lavorativo se svolgere la funzione giudicante o quella di pubblico ministero col no resta la possibilità di passare da una funzione all'altra scheda grigia per il quarto quesito relativo alla valutazione dei magistrati e la presenza o meno dei membri laici nei consigli giudiziari scheda verde per il quinto quesito relativo alle elezioni di componenti togati al csm e quindi l'abrogazione o meno dell'obbligo di raccogliere almeno 25 firme per candidarsi per tutti i quesiti il referendum sarà valido in caso di superamento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto in abruzzo sono poi 49 comuni nei quali si andrà al voto per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali 23 in provincia di chieti 17 in provincia dell'aquila 5 in provincia di pescara 4 in provincia di teramo sono 5 l'aquila spoltore ortona san salvo e martin sicuro quelli con più di 15 mila abitanti nei quali il sindaco viene eletto in caso raccolga il 50% più uno dei voti altrimenti si va al secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati negli altri comuni sotto i 15 mila abitanti risponso immediato al primo turno con l'elezione del candidato che raccoglie più preferenze la sfida più attesa è quella del capoluogo d'Abruzzo 4 i candidati l'uscente Pierluigi Biondi espressione del centrodestra la parlamentare Stefania Pezzopane per il centrosinistra Americo Di Benedetto sostenuto da liste civiche di ispirazione di centrosinistra e Simona Volpe in altri due comuni i sindaci uscenti cercano il secondo mandato a Ortona Leo Castiglione se la dovrà vedere con Angelo Di Nardo del centrodestra Ilario Cocciola sostenuto da sette liste e Francesco Terra di Ancora Italia a martin sicuro vuole il bis Massimo Magnoni sostenuto da tre liste che viene insidiato dalle due candidate a sindaco Simona Lattanzi anche per lei tre liste ed Emma Zarroli una lista lasciano Palazzo di Città dopo due mandati Luciano Di Lorito a Spoltore e Tiziana Magnacca a San Salvo nel comune in provincia di Pescara i candidati sono Chiara Trulli del centrosinistra ex assessore della prima giunta di Lorito e poi tre candidati di ispirazione di centrodestra che sono Pierpaolo Pace, Marco Della Torre e Nelson Anzoletti a San Salvo invece sfida fra tre candidati Emanuela De Nicolis, Fabio Travaglini e Giovanni Mariotti nei comuni sopra i 15.000 abitanti è possibile il voto disgiunto quindi tracciare un segno su un candidato sindaco e poi un altro su una lista che non è a lui collegata nei comuni sopra i 5.000 abitanti si possono esprimere uno o due preferenze in caso di due bisogna indicare un uomo e una donna sotto i 5.000 abitanti al massimo una sola preferenza le operazioni di spoglio riguarderanno subito il referendum dalle 14 di lunedì le amministrative Cambiamo argomento adesso perché la prossima settimana tornerà in mare la marineria pescarese questa la decisione è emersa dopo i numerosi incontri avuti a livello nazionale i problemi però restano tutti sul tavolo Paolo Renzetti La marineria pescarese una delle ultime a restare a terra in queste ultime ore dalla prossima settimana tornerà in mare seppur solo inizialmente per alcuni giorni dopo ore di riflessione si è deciso così di interrompere il lungo sciopero per il caro gasolio i problemi come spiega Fabrizio Verzulli presidente dell'associazione Il Maestrale restano però tutti sul tavolo e tutti irrisolti i problemi restano ancora sul tavolo per me sono ancora aumentati i problemi perché due volte che buttiamo la spugna qua torniamo di nuovo in mare con i prezzi di gasolio che sono tornati a salire ancora di più non so dove andremo a finire comunque non c'era unità di vedute nei giorni scorsi sul fatto di riuscire in mare c'è chi era d'accordo e chi contrario si infatti non c'è unità chi vuole uscire chi vuole restare a terra e continuare lo sciopero però queste sono tutte piccole aziende giustamente ognuno di loro hanno le loro problematiche il costo del gasolio non solo resta è aumentato quindi signori qua se torniamo di nuovo in mare stiamo facendo uno sbaglio enorme perché facciamo capire a tutti che praticamente il problema non è mai esistito abbiamo fatto lo sciopero per niente insomma abbiamo perso solo tempo andando girando l'Italia a bloccare barche e facendo sì che aderivano insieme a noi a tutto lo sciopero il presidente dell'associazione armatori di Pescara Francesco Scordella rilancia ancora una volta l'idea del fermo biologico anticipato per una categoria sempre più in ginocchio noi ci siamo comportati degnamente tutti quanti quindi non abbiamo fatto istruzionismo in città e abbiamo come si dice rotto le scatole a qualcuno che andava a lavorare per bloccare come si fa di solito quando c'era manifestazione il rammarico mio è che le istituzioni purtroppo non ci hanno dato una risposta tuttora fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico veniamo da una pandemia è una situazione talmente drammatica io capisco che tutte le aziende stanno col fiato sospeso perché questo fatto del ringare energetico ma noi viviamo di quello il gasolio per noi è come il sangue per un essere umano a queste condizioni qua veramente non sappiamo più cosa fare non abbiamo le risposte col senatore D'Alfonso oggi c'è una riunione in videoconferenza con le altre cariche dello Stato quindi si è adoperato per far fronte a questa situazione speriamo che io oggi chiedevo a gran voce visto che stiamo fermi in questo modo senza fare niente vi faccio scontare un fermo biologico che secondo me era una soluzione non era la migliore però invece di stare fermi in questa situazione così senza avere niente scontavamo questo fermo biologico e poi fra i 50 giorni capaci che le cose potevano cambiare il governo aveva il tempo per fare tutto quello che doveva fare i provvedimenti ma se stiamo fermi così e fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico e altri 50 giorni queste sono aziende che non si rialzeranno più avremo importazione estero e quindi stiamo favoreggiando il mercato estero e questa è la risposta che stiamo aspettando da questo governo ma ho poca fiducia perché veramente è brutto dirlo ma ci hanno preso in giro perché troppo tempo senza risposta i numeri dell'emergenza odierna covid sono 489 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo emersi dall'analisi di 1383 tamponi molecolari e 2777 test antigenici il tasso di positività è pari all'11,75% due i decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 3346 continuano ed è una buona notizia scendere i ricoveri gli attualmente positivi sono 16.781 143 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica con un decremento di 11 unità e uno in terapia intensiva numero invariato mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare c'è un aumento dei guariti di 444 unità vediamo le variazioni provincia per provincia 103 casi in provincia dell'Aquila 150 in provincia di Chieti 110 in provincia di Pescara 99 in provincia di Teramo 8 sono residenti fuori regione e per 19 sono in corso verifiche sulla provenienza nel cinquantesimo dalla sua nascita il dipartimento di radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti si candida ad essere un centro di riferimento per il trattamento dei bambini con i macchinari per la radioterapia chiamati acceleratori lineari che da due passano a quattro uno di questi è dedicato alla radioterapia pediatrica Serenia Secondi le novità sono tante perché per il centro di radioterapia oncologica di Chieti nell'anno del suo cinquantesimo è prevista uno sviluppo importante un investimento importante da un punto di vista tecnologico perché proprio quest'anno ad ottobre partirà il nuovo acceleratore lineare di radioterapia oncologica il cui cantiere in questo momento è già in corso ma soprattutto sia la regione Abruzzo sia la Aslancio-Novasto-Chieti sia il comune di Chieti l'università di Chieti hanno pianificato un investimento importante nel bienio 2022-2024 sulla radioterapia oncologica di Chieti con il raddoppiamento delle macchine da due a quattro di cui una dedicata completamente alla radioterapia pediatrica oncologica pediatrica sono pochi centri che eseguono la radioterapia pediatrica è un sogno che rincorriamo e abbiamo fatto un investimento grazie al Trattuno mandando a fare formazione ai nostri giovani medici nei centri del nord dove si esegue questa radioterapia pediatrica e quindi è un obiettivo che Chieti divertì un centro di riferimento per il trattamento dei bambini quindi sicuramente non solo il ripristino del secondo macchinario ma la dotazione di ben quattro acceleratori lineari questo implica che anche i rapporti con il territorio e quindi i sodalizi che possono essere come questo con l'Agri da parte della nostra associazione il Trattuno è una strada per la vita sono fondamentali a proposito di questo nuovo acceleratore lineare quali sono i tempi e l'iter che adesso c'è in prospettiva? dunque in questo momento viviamo un grande fervore e entusiasmo perché siamo in pieno cantiere il 28 luglio è previsto l'arrivo fisico di questa macchina di ultimissima generazione dal 17 al 31 agosto ci saranno tutti i test di accettazione i primi test di accettazione dal 5 settembre le misurazioni finali io mi auguro che a cavallo tra fine settembre cercheremo di correre perché i pazienti hanno bisogno di risposte le liste di attesa hanno bisogno di risposte mi auguro che a fine settembre, primi di ottobre possa partire con l'uso clinico 65esimo compleanno per l'azienda Maico di Pescara 65 come gli alberi donati alla pineta d'Annunziana tanti gli ospiti a festeggiare l'istituto acustico tra cui Iuri Chechi, il servizio di Giuseppe Dintino La Maico, istituto acustico leader del settore compie 65 anni e sceglie di festeggiare questo importante compleanno all'Exaurum di Pescara la città dove 65 anni fa tutto ebbe inizio Oggi è un bel giorno per Pescara è un compleanno da ricordare perché l'impresa Maico nata a Pescara è cresciuta, si espansa a livello nazionale è un'impresa che non dimentica mai il territorio è un'impresa innamorata del proprio territorio e soprattutto è un'impresa che sa restituire il territorio perché non pensa soltanto al guadagno ma pensa alla possibilità di far crescere le realtà in cui opera attraverso messaggi chiari Sono state portate avanti in questi anni iniziative importanti iniziative di prossimità basate sulla prevenzione una prevenzione primaria, secondaria e terzaria specialmente anche, devo ricordare, nel periodo del lockdown sono state molto vicine a quelle famiglie che avevano difficoltà ad udire quindi ad ascoltare e quindi a comunicare Per l'occasione la Maico ha donato 65 alberi al comune di Pescara destinati alla pineta d'Annunziana tanti gli ospiti illustri in questo speciale compleanno dal giornalista Luciano Onder all'olimpionico Yuri Chechi Ecco diceva che c'è una correlazione tra la sua storia e quella della Maico come mai? Forse perché entrambi vi siete fatti dal nulla? Sì, bravo, questo è sicuramente un link delle due storie ora cercando di trovare dei link, ma questo è quello ho parlato anche con Mauro che è il figlio del fondatore che ancora non ha avuto la fortuna di conoscerlo, lo farò fra poco però effettivamente è una storia di un uomo di grande determinazione di grande capacità, di un uomo che come me ogni giorno era lì sul pezzo e non mollava finché l'obiettivo non è stato raggiunto superando anche difficoltà importanti Termineranno a breve i disagi sul lungomare di Silvi a causa del rifacimento del manto stradale i lavori, dice il sindaco Andrea Scordella dovrebbero terminare entro il 20 giugno intanto mercoledì 15 giugno sarà riattivata la sosta a pagamento Sono in dirittura d'arrivo i lavori di rifacimento asfalti sul lungomare di Silvi un manto stradale corroso dagli anni e dai tanti interventi delle società di gestione di luce, gas e acqua e dalle potenti radici dei pini che hanno creato pericolosi avvallamenti sulla strada e sulla passeggiata per finanziare la realizzazione l'amministrazione ha fatto ricorso ad un mutuo di 1.500.000 euro un'opera attesa da anni sia da residenti sia dalle numerose famiglie che ogni anno scelgono la città come meta per le vacanze estive Ancora qualche giorno per finire il primo intervento asfalti un piano asfalto importante, tutto il lungomare, la zona nord e la zona sud e qualcosa anche all'interno Naturalmente stiamo già ipotizzando un secondo progetto dove andremo a completare le aree che non verranno interessate da questo piano asfalti siamo consapevoli che si avrebbe bisogno di un restyling soprattutto sulle strade, sulla viabilità e stiamo facendo quello che doveva essere fatto Noi avevamo messo in previsione entro il 15-20 giugno che fosse finito tutto diciamo che la ditta sta procedendo in maniera spedita sta facendo un ottimo lavoro noi siamo fiduciosi che per l'inizio dell'estate saremo prontissimi Dal 15 giugno si tornerà a pagare il parcheggio negli stali delimitati in blu sul lungomare e in via Santa Lucia a Silvipaese Per un'ora o frazione si pagherà 80 centesimi e per le successive ore 80 centesimi La tariffa giornaliera dalle 8 alle 20 è fissata in 5 euro quella settimanale in 25 quella mensile in 85 euro e la stagionale in 240 euro Per i residenti è confermata la riduzione del 50% mentre per i titolari e dipendenti di attività commerciale e di enti il trattamento speciale è di 70 euro per l'intero periodo di vigenza del pagamento della sosta Questa è una scelta di tutte le città costiere perché sappiamo le difficoltà però quando riusciamo a recuperare delle risorse e poi le reinvestiamo sul territorio attraverso piano asfalti e abbellimento della città siamo consapevoli che il cittadino comprende e soprattutto diamo un senso di fiducia a delle istituzioni Da 0 a 6 anni questo è il nome del brainstorming formativo presentato questa mattina a Palazzo di Città a Pescara Questa mattina a Palazzo di Città a Pescara si è tenuto il brainstorming formativo da 0 a 6 anni l'evento è stato promosso da Pro Formazione Academy in collaborazione con il Comune di Pescara realizzato nell'ambito delle attività del progetto La Cittadella dell'Infanzia Tutti i dettagli dell'evento sono stati illustrati alla presenza del Sindaco Carlo Masci e del Presidente della Commissione Pubblica Istruzione Comunale Fabrizio Rapposelli Si è trattato di un momento di riflessione e discussione per affrontare diversi aspetti legati alla prima infanzia vista con gli occhi di chi si occupa di formazione ed educazione rivolta proprio alla fascia di età più delicata 0 a 6 anni Pescara in generale è sempre una stella polare anche per altre realtà riesce ad anticipare le situazioni abbiamo messo in campo un gruppo di lavoro per verificare nuovi metodi di insegnamento anche di rapporti per la fascia di età da 0 a 6 anni che è la fascia oggi più importante intanto perché è quella fascia che ha davanti la prospettiva di vita più lunga in un mondo nuovo che si dovrà realizzare in condizioni diverse rispetto al passato perché quello che è successo in questi due anni ci porta a dire che nulla è più come prima e che quindi bisogna guardare il mondo con occhi originali avere una visione diversa e per fare questo bisogna lavorare bisogna studiare bisogna impegnarsi e bisogna mettere insieme gli eventi migliori per costruire nuovi percorsi in generale per i cittadini è un progetto che ha visto la luce già dal 2018-2019 quindi è un progetto che ha avuto purtroppo un periodo di sosta a causa Covid e credo che sia estremamente importante perché come ho detto prima nel messaggio di saluti istituzionale all'apertura del convegno è una cosa che prende le mosse da tanti 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 anni prima cioè da quando la ex dirigente dell'ufficio scolastico regionale Giovanna Boda aveva percepito una grande differenza e un gap tra il sistema educativo integrato italiano e quello diciamo degli altri paesi stranieri e quindi si cercava di organizzare di organizzarsi anche a livello governativo per cercare di ridurre al minimo questo gap Torniamo a Silvi perché è ufficialmente aperta da questa mattina la biblioteca comunale per ragazzi con annesso Biblioparco in Via Tevere si tratta di una nuova offerta culturale per i ragazzi di ogni età a due passi dal mare Stefano Recanati Silvi città di mare ma Silvi anche città di cultura si possono fare benissimo queste due cose soprattutto in estate Assolutamente sì finalmente abbiamo inaugurato la sezione ragazzi della biblioteca di Silvi una sezione che ha libri per tutti in realtà perché ha due sale dedicate ai ragazzi e ragazzini cioè da 0 a 6 anni e da 6 a 15 anni quindi un patrimonio librario per tutti questi ragazzi che vogliono avvicinarsi alla lettura e alla cultura inoltre c'è una piccola sala dedicata anche a coloro che verranno ad accompagnare i ragazzi da 0 a 100 anni quindi libri per tutti inoltre la novità assoluta è il nostro Biblioparco che verrà al più presto attrezzato con gazebi, con tavoli, con sedie particolari, con amaca per poter dare la possibilità a chi viene a prendere in prestito il libro tranquillamente sotto l'ombra di un albero dei nostri cari pini di poter leggere tranquillamente un libro dopo il mare, nelle giornate un po' pioggiose in qualsiasi momento avvicinarsi alla cultura è importante partire dai giovani è importantissimo sicuramente quella del Comune di Silvio è un'iniziativa bellissima tirare fuori da una biblioteca comunale una sezione dedicata ai ragazzi e portarla qui a quattro passi dalla spiaggia in un'area protetta dove possono tranquillamente leggere un libro insieme ai propri genitori è sicuramente un'iniziativa lodevole tra virgolette si unisce a un'iniziativa che proprio giorni fa abbiamo lanciato noi come Regione Abruzzo che si chiama Liberi Liberi ieri abbiamo mandato i link a tutti i comuni dove è possibile scaricarsi un libro tranquillamente da un semplice QR code e poterselo leggere in tranquillità sul proprio telefonino gratuitamente in spiaggia, nelle strutture ricettive un po' dove uno vuole quindi è una bella iniziativa che i comuni ci dovranno dare una mano a promuovere che dà la possibilità di avvicinarsi alla cultura gratuitamente in modo semplice senza avere l'angoscia di riconsegnare il libro a tutti quelli che lo vorranno fare una nuova offerta per l'estate abruzzese? assolutamente sì che va a completare l'offerta già ricca del patrimonio turistico abruzzese iniziativa di comune e comando della polizia municipale di Torrevecchia Teatina che hanno sensibilizzato gli alunni della scuola primaria Montalcini all'educazione stradale Nella scuola primaria Rita Levi Montalcini con il sindaco di Torrevecchia Teatina Francesco Seccia un momento molto importante legato all'educazione stradale un tema di scottante attualità a cui voi tenete in modo particolare? Questa è un'iniziativa che parte grazie alla disponibilità del nostro comando di polizia locale con il quale questo progetto vogliamo sensibilizzare i ragazzi a questa tematica importante ovvero quella dell'educazione stradale Noi riteniamo che iniziare da piccoli favorire, inculcare i principi delle sane abitudini stradali possano essere poi utili un domani affinché i ragazzi sappiano come comportarsi per strada e per le vie del paese Oggi ci saranno dei baby vigili ad animare questa giornata ricca di contenuti un messaggio da lanciare all'intera collettività Sì, il progetto è molto bello perché al termine di questo percorso formativo che li vedrà formarsi sia come vigili sia riceveranno anche dei piccoli berretti delle casacchine vedranno i ragazzi impiegati proprio sul campo quindi andranno insieme alle nostre forze di polizia locale a fare, a rilevare le infrazioni ovviamente non saranno multe vere saranno solo degli avvertimenti in cui i ragazzi diranno agli adulti guardate questi spazi sono nostri queste strade ci giochiamo noi quindi facciamo attenzione Sindaco, tutto questo perché sono in aumento purtroppo le infrazioni stradali quindi voi ci tenete a sensibilizzare l'opinione pubblica? Sì, è una forma anche di tutela del cittadino non vogliamo vessarli con le contravenzioni ma il nostro obiettivo è quello di sensibilizzarli farli capire quali sono le regole da seguire per rendere il paese un posto più fruibile Sport adesso, la prossima settimana sarà quella degli annunci in casa Pescara stando ai termini fissati dal presidente Sebastiani si attende ora il sì di Zdenek Zeman su cui è caduta la scelta del direttore sportivo Inpectore Daniele Dellicarri prosegue il conto alla rovescia che porterà la definizione dello staff tecnico del Pescara e prima ancora l'ingresso dei nuovi imprenditori nella compagine sociale a metà della prossima settimana c'è la deadline fissata dal presidente Daniele Sebastiani e l'attesa principale è quella della scelta dell'allenatore visto che per la figura di direttore sportivo Daniele Dellicarri è già all'opera in attesa dell'annuncio ufficiale ormai non ci sono dubbi che il prescelto per la panchina sia Zdenek Zeman tutto sta nella volontà del boemo di dire sì alla proposta di Dellicarri solo in caso di no si virerebbe su altri profili il principale è quello di Alberto Colombo che dopo l'ottima stagione a Monopoli vorrebbe una chance in una piazza di prestigio quale Pescara mentre si assottigliano le speranze di una B Ascoli e Cosenza sembrano guardare altrove ed ora è accostato alla Carrarese Zeman artefice della splendida promozione in Anne nel 2012 poi le cose sono andate male nella stagione 17-18 che però aveva premesse diverse il Pescara retrocesso dalla A si portava dietro contratti onerosi ed una rosa abnorme con cui era difficile lavorare quel Pescara non entusiasmava ma furono le frizioni che il tempo non sembra aver lenito del tutto con Sebastiani a portare all'esonero anche se poi le cose peggiorarono con la promozione di Epifani e solo l'avvento del normalizzatore Pillon evitò il patatrack finale fermi restando i dubbi avanzati nei giorni scorsi e che lo stesso allenatore potrebbe e dovrebbe valutare Zeman d'altro canto potrebbe essere attratto dal fatto che su questa rosa invece ci sono margini di manovra ben più ampi tra giocatori via per fine prestito quelli a scadenza e alcuni baby che saranno ceduti per alimentare il budget Sorrentino e Veroli in particolare l'organico andrà in buona parte ricostituito puntando sui giovani a tal proposito valutazioni andranno fatte su quelli del Pescara Chiarella e Blanuta potranno avere ancora più spazio così come delle monache che potrebbe essere ceduto ma comunque resterà in prestito in biancazzurro e quelli che rientrano dai prestiti Gennaro Borrelli, Nicola Sbelloni, Milos Bocic più o meno funzionali al gioco di Zeman rientrerà anche un signor come Michael De Marchi e anche in questo caso si verificherà l'adattabilità al progetto tecnico Adesso andiamo in casa Teramo Calcio perché dopo la nomina di Massimo Chierchi ad amministratore unico del club in casa bianco-rossa sono iniziate le manovre per concretizzare un progetto che dovrà attuare anche Davide Ciaccia e che possa portare all'iscrizione Ne ha parlato questa mattina il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto Sottolineando che ora ognuno dovrà fare la propria parte con la palla in mano ai nuovi interlocutori Ania Cantagani Ieri si è messo un punto fermo si è dato quindi si è individuato il soggetto coagulatore utilizziamo questo termine delle risorse da individuare da mettere a disposizione dell'iscrizione stiamo lavorando tutti tutti ciascuno per il proprio ruolo assolutamente per il raggiungimento di questo obiettivo che deve essere l'iscrizione della nostra squadra in Serie C Il passo di ieri è un'opportunità per aprire una nuova fase e che come giustamente ricordava lei è una fase che deve avere una durata non limitata o ristretta ma assolutamente brevissima nel senso proprio in termini temporali perché la scadenza dell'iscrizione costituisce un termine che si avvicina sempre di più quindi ciascuno faccia la sua parte questo è molto importante si senta responsabile di questa fase di questo momento iscriviamo la squadra e poi ne apriremo un'altra di fase nella quale appunto costruiremo e definiremo il futuro della Teramo Calci in un momento così difficile con le vicissitudini che abbiamo vissuto ma con una salvezza che abbiamo conquistato sul campo Lei sta cercando per quanto comunque competa il suo ruolo la sua possibilità di accentrare delle forze nuove intorno al Teramo? Ma è un'attività che ho fatto che possono essere fin dall'inizio non senza difficoltà insomma un momento non semplicissimo lo ho fatto con i commissari con i componenti appunto con gli organi del Tribunale continuerò a farlo in questi giorni con un filo di speranza sicuramente più forte, più solido ma che dobbiamo alimentare nelle prossime ore quindi l'appello che continuiamo a fare da tempo lo dobbiamo ribadire il traguardo è più vicino rispetto a prima quindi lo sforzo è anche minore facciamo ciascuno la propria parte Quindi è più ottimista rispetto a qualche giorno fa? Io come ho detto qualche giorno fa più si avvicina la scadenza e più l'ottimismo si riduce però sicuramente il passaggio di ieri quantomeno ha delineato una strada ha individuato degli interlocutori che in questo momento hanno il pallino in mano E sempre in casa Teramo corteo questo pomeriggio da parte della tifoserie organizzata Biancorossa per chiedere rispetto per il club che come avete sentito ha ancora dei giorni per trovare la strada per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro i sostenitori del diavolo chiedono rispetto per la storia di una squadra che entro il prossimo 22 giugno avrà la necessità di reperire le risorse che mancano per l'ok alla partecipazione del prossimo campionato nazionale di terza serie contestato soprattutto l'ex presidente e oggi socio di minoranza Franco Iachini da ieri inoltre il Teramo ha come avete sentito nel servizio precedente un amministratore unico Massimo Chierchia che insieme a Davide Ciacci avranno l'arduo compito di dare concretezza ad un progetto sportivo in pochi giorni lo ricordiamo la deadline il prossimo 22 giugno e adesso parliamo di europei di calcio per non vedenti primo punto della nazionale di calcio italiana agli europei di calcio a 5 in corso di svolgimento a Città Sant'Angelo dopo il KO con la Francia gli azzurri non vanno oltre il pareggio 1 a 1 nel match contro la Grecia e la corsa alle semifinali diventa più complicata l'Italia chiude in svantaggio la prima frazione di gioco ma nella ripresa la squadra del CT pugliese reagisce e crea numerose opportunità 5 minuti dalla fine il pari meritato firmato dal bomber Paul Iobo autore di una splendida azione personale che ascoltiamo nel post gara Paul Iobo solo un pareggio contro la Grecia il tuo secondo gol all'europeo non è bastato per vincere la partita? No decisamente no Cos'è mancato per portare a casa i tre punti? Ovviamente segnare un gol in più degli altri però sono sicuro che abbiamo fatto tutti il nostro meglio A questo punto diventano decisive le gare contro la Repubblica cieca e contro la Turchia? Era decisiva anche questa partita quindi purtroppo ci rimangono solo questi due dovremmo dare il massimo Calcio a 5 femminile dopo la sconfitta per 4-3 a Falconara in gara 2 di finale Scudetta una manciata di secondi dalla Sirena il Pescara femminile si giocherà domani sera il tricolore in gara 3 di nuovo sul campo del Marchigiane e con questa notizia si chiude l'edizione del nostro TG6 vi ricordo che i nostri servizi le notizie le potete trovare sul nostro sito web www.tv6.it io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata www.tv6.it